Il giudice l'ha condannato a 16 anni e 8 mesi e adesso aspettiamo di vedere le motivazioni della sentenza che arriveranno fra 90 giorni perché è il tempo che il giudice ha preso per le motivazioni e poi ovviamente faremo appello ma intanto aspettiamo di vedere le motivazioni. Si è pronunciata, ha dato delle provvisionali, ce ne sono diverse quantificazioni quindi adesso non vorrei dire qualcosa che non ricordo con precisione, comunque mi sembra la signora Scaloni 50 mila, la figlia Sofia 100 mila e 100 mila anche alla mamma e al papà della Giovanna Gorini e 25 mila alla sorella e poi altri, perdonatemi non ricordo, 100 mila a testa? Sì, a testa sì e rimettendo poi davanti al giudice civile per la determinazione per l'esatta quantificazione del danno. Ve l'aspettavate? Sì, stante le richieste del pubblico ministero anzi io pensavo che la condanna fosse conforme alle richieste del pubblico ministero ma non ci arrendiamo ovviamente.